Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. Il caso di Giulia Cecchettin continua a tenere l'Italia in sospeso con nuovi, inquietanti sviluppi. Recentemente, nell'auto di Filippo Turetta, l'assassino di Giulia, sono stati rinvenuti dei guanti, un elemento che agita gli animi. L'uso dei guanti, tipicamente finalizzato a evitare di lasciare tracce digitali, suggerisce una sinistra premeditazione dell'atto. Ma le rivelazioni non si fermano qui. Tre sono le principali novità. Innanzitutto, l'autopsia di Giulia è stata programmata per il primo dicembre a Padova. In secondo luogo, l'avvocato di Turetta ha manifestato l'intenzione di non escludere la richiesta di una perizia psichiatrica per il suo assistito. Questa mossa, spiegata dall'avvocato Emanuele Compagno, non mira a liberare Filippo da ogni responsabilità, bensì a indagare a fondo lo stato mentale del giovane nel momento del tragico evento. Infine, i genitori di Filippo, Nicola ed Elisabetta, hanno fornito un nuovo spaccato familiare. In una recente intervista, hanno negato di aver mai creato un ambiente familiare patriarcale, distanziandosi dalle azioni del figlio. Mentre Elisabetta esprime il suo dolore, Nicola riflette sulle abitudini quotidiane di Filippo, negando qualsiasi sospetto di premeditazione dell'omicidio. Tuttavia, Nicola ammette di non avere una spiegazione per l'accaduto, suggerendo che forse Filippo avrebbe voluto sequestrare Giulia per impedirle di discutere la sua tesi, con conseguenze poi inaspettate. Questi aggiornamenti continuano a suscitare interrogativi e speculazioni. I genitori di Filippo concludono esprimendo la loro vicinanza alla famiglia di Giulia e il loro dolore per la tragedia accaduta. E tu cosa ne pensi di questa vicenda? Scrivilo nei commenti! E non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.